Ovviamente non si può abbassare lo stipendio dei dipendenti, non ritengo neanche che sia giusto, bisogna valutare nel merito chi poi prende i premi e chi non prende i premi, non è abbassarli e si risolve la situazione. Se avessi la sfera di cristallo per sapere quanto riusciremo a abbassare il debito, sarai veramente bravissimo, penso. Già inquadrare correttamente quanto è il debito del Comune di Parma tenendo conto delle partecipazioni e di tutte le cose che stanno emergendo, che magari non sono a bilancio ma che sono ad esempio appalti già firmati che non sono ancora concretizzati, è veramente molto difficile. Capire quanto il Comune potrà rientrare in questi anni penso che sia altrettanto impossibile. Quindi già noi dobbiamo affrontare le spese più imminenti dei crediti ad esempio delle aziende edili che sono impegnati in lavori per il Comune che sono circa 70 milioni di euro e questi sono i crediti più importanti perché ci potrebbero bloccare veramente il Comune, mentre tutto il resto sono investimenti più o meno sbagliati a lungo termine. La stazione che citavamo prima, 250 milioni di euro, opera completamente inutile perché non se ne sentiva l'esigenza che comprende anche la riqualificazione di un intero quartiere, riqualificazione intesa come continue costruzioni di nuove case se pensiamo che a Parma sono già stati deliberati 15 mila già alloggi che si potrebbero costruire tenendo conto che abbiamo un sacco di alloggi invece sfitti, anche qua inizieremo un lavoro di censimento per quanto riguarda gli alloggi vuoti proprio per capire quanto sia la necessità di costruirne altri ma soprattutto come si potrebbero abbassare gli affitti tenendo conto che ci sono un sacco di appartamenti vuoti che magari vengono tenuti vuoti per alzare, per gonfiare quello che è il costo degli affitti mensili, quindi è difficile stabilire questo. Per quanto riguarda il treno, magari fosse di competenza comunale aggiungerei io, al di là che i soldi non li avremmo comunque, ma se pensiamo che adesso hanno bloccato anche il raddoppio della linea Parma-Pontremoli, che comunque anche qua serve tutta la montagna di Parma, hanno bloccato l'ultimo pezzo quindi adesso fino a metà è doppio binario e poi binario singolo fino a Parma, pensiamo quali sono gli investimenti italiani nelle infrastrutture quando nella stessa Emilia Romagna vediamo la Tirreno Brennero che è una strada inutile che non ha i soldi per finire quindi finirà in un paesino e non continuerà per dove deve andare perché non ci sono i fondi e l'altra è la Cispadana, cioè costruiscono nuove autostrade e non investono invece in treni e in stazioni. Consumo del territorio, in un comune dove non si costruisce più niente perché negli ultimi anni hanno costruito tutto se pensiamo che il rapporto tra clienti e superficie delle grandi superfici commerciali sopra i 2500 metri quadrati è aumentato del 400%, nessuno sta più costruendo perché non c'è veramente più esigenza neanche per quelli che una volta speculavano perché non riescono a vendere quello che hanno, figuriamoci quello che non hanno. Un'iniziativa però interessante ad esempio perché l'importante è copiare anche dai comuni di altri colori che portano avanti iniziative interessanti, Milano sta portando avanti una delibera per se un'impresa non finisce una grande costruzione come può essere un centro commerciale. A Parma ne abbiamo 4 o 5 abbandonati al loro destino, non finiti, non può più costruire altri grandi superfici. Questa è un'idea intelligente che penso che copieremo sentendo anche proprio la giunta di Milano perché non bisogna, abbiamo sempre detto, noi dobbiamo basarci non sulle ideologie e quindi fare schieramento a parte ma basarci sulle idee. Quindi le idee buone le possono avere qualunque tipo di colore, noi dobbiamo differenziarsi in questo. Anche in Consiglio Comunale cerchiamo sempre di prendere il buono dalle iniziative che ci vengono proposte senza valutare come, in che tono ci vengono proposte. L'esternalizzazione della signora, adesso poi glielo passo, ma così andiamo di là. Io non ho detto che le esternalizzazioni sono positive, anzi ho detto che proprio nell'esternalizzazione abbiamo visto quello che è una riduzione degli stipendi dai dipendenti comunali ai dipendenti delle, chiamiamole cooperative, delle grandi cooperative nazionali. Però anche in questo noi non possiamo immaginarci che il comune possa sopperire a tutto. C'è stata una polemica a Parma, quando si passa dalla parte del governo, nel senso del governo di una città, siccome la mentalità deve un po' cambiare rispetto a quella dell'opposizione, se no rimaniamo sterili come gli altri. A Parma ci hanno criticato che un numero che era già stabile da anni, cioè che 800 posti mancanti per quanto riguarda nidi e scuole materne, era colpa del comune, era ovviamente colpa nostra, come se in passato ci fossero stati più posti disponibili, mentre quest'anno sono cresciuti, non per merito nostro perché siamo appena arrivati, del 5% la disponibilità di posti. Però il comune non ha né i mezzi né la possibilità più di assumere, perché sono state bloccate tutte le assunzioni per patto di stabilità, per il fatto che ovviamente negli anni è stato assunto chiunque. Quindi se vogliamo dare più servizi per quanto riguarda i cittadini, come dobbiamo fare? Poniamoci delle domande anche in un senso critico. Differenziamo tra quello che è lo sfruttamento dei lavoratori a quello che è dare servizi che il comune in questo momento, per le risorse disponibili dello Stato, della Regione, che sono sprecate dai parlamentari, che sono sprecate per inutili, cioè tagliando tutto quello che ovviamente potremmo fare, ma come dobbiamo rispondere? Non si può solamente essere contro, bisogna anche trovare una soluzione che sia fattibile per i comuni. Quando avremo ridotto gli sprechi potremmo fare veramente una politica virtuosa, ma nell'immediato, come dicevano prima, dobbiamo comunque rispondere con i mezzi che abbiamo a disposizione. Quindi non bisogna fare della facile demagogia, ma anche rispondere a quello che ci chiedono i cittadini tutti i giorni. Sì, una battuta per quanto riguarda l'attenzione ai servizi sociali. Il comune di Sarego, la nostra amministrazione, nel nostro primo bilancio previsionale, abbiamo cercato di ricavare del denaro per quanto riguarda i servizi sociali, facendo una manovra tributaria per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, che innanzitutto recuperi dei soldi per poi appunto destinarli ai servizi sociali. In secondo luogo abbiamo cercato in questo modo di proteggere fasce più deboli, appunto facendo una detrazione sotto una soglia di reddito e facendo soprattutto una politica progressiva per le varie fasce di reddito. Quindi non più un'unica aliquota uguale per tutti gli scaglioni, non può essere che una fascia di reddito sotto i 15.000 euro paghi la stessa aliquota della fascia sopra i 75.000 euro. Abbiamo fatto un'aliquota progressiva per cui i redditi sotto i 15.000 paghono una percentuale che è più bassa dei scaglioni superiori.